Aver personalizzato il referendum è stato un errore, spiega Maurizio Lupi, area popolare, ma questa è una riforma che ammoderna le istituzioni ferme da 70 anni. Approvarla continua, significa rendere il Paese competitivo. Dare tempi certi per l'approvazione di una legge vuol dire permettere di dare tempi certi a che finalmente una persona o un giovane possa trovare lavoro o l'economia possa essere rilanciata. Diminuire il numero dei parlamentari e ridurre i costi della politica vuol dire riavvicinare le istituzioni ai cittadini. Per questo noi diciamo che il 4 dicembre si deve votare sì, sì per cambiare il Paese.